Musica Senuta congiunta delle tre assemblee legislative di Trento, Bolzano e Dinsbruck, il 14 e 15 giugno scorso si è riunito a Riva del Garda il Dreyer Lantag. L'appuntamento biennale giunto ormai alla quindicesima edizione è occasione per cercare il dialogo e rinsaldare la collaborazione trasfrontaliera. Una sola voce per contare di più, lo slogan emerso in maniera trasversale nella convenzione che la sfida dell'euroregione sia quella di unire le forze su obiettivi e temi comuni, superando le differenti sensibilità con intese utili a rappresentare in Europa e nei rispettivi stati una visione unitaria. Una piccola Europa nel cuore dell'Europa. Un bilancio veramente positivo anche perché si trattavano argomenti anche delicati e spinosi che chiaramente venivano recepiti nei territori in maniera differente. Alla fine insomma il buon senso e la dialetica è sopravale per quanto riguarda la divisione, questo credo sia importante. Trento, Bolzano e Dinsbruck formano un cuore, un cuore nell'Europa. Per cui ho fatto una mozione che è stata approvata ad unanimità, che chiede di far partire un percorso che al GEC venga andata delle competenze primarie, cioè al di sopra dello Stato italiano e dello Stato austriaco, chiaramente in condivisione con l'Europa, per far sì che questo ente possa decidere su determinate tematiche. 16 su 21 le mozioni approvate su temi come ambiente, trasporti, sanità, scuola, turismo, ricerca, rapporti istituzionali. Disco verde per 5 dei 7 documenti proposti dai consiglieri trentini, accanto a quella citata dal presidente Casvalder, sono state approvate la mozione di Luca Guglielmi di Lista Fassa per la realizzazione di un campo scolastico universitario germanofono a Luserna, il documento di Mara D'Alzocchio della Lega, che ipotizza un marchio qualitativo dei prodotti dell'Euregio, la proposta di Alex Marini per ammettere ad assistere come osservatore alla seduta del Dry & Lantec, un rappresentante dei tre comuni ex-asburgici di Balvestino, Magasa e Pedemonte. Bocciata in seguito al no della maggioranza del Consiglio di Bolzano, la mozione di Filippo De Gasperi di Onda, che chiedeva di lavorare in sede Euregio per progetti di mobilità sostenibile, respinta anche la mozione di Lucia Coppola dei Verdi sulla creazione dei corridoi faunistici. Sulla questione assillante dei grandi carnivori, soddisfazione invece per la condivisione del documento di Vanessa Masè, che impegna ad un approccio scientifico e di ricerca. La proposta di mozione approvata prevede che venga fatto uno studio congiunto sull'impatto economico e sociale dei grandi carnivori sui tre territori, quindi un approccio scientifico di ricerca per valutare proprio quelli che riteniamo essere un impatto forte, in particolare sulle attività agricole come la zootecnia, l'apicoltura dei grandi carnivori, ma anche sui risvolti turistici e anche artigianali. La proposta è stata approvata con un emendamento dell'assessora Zanotelli, che chiede di procedere in maniera congiunta e risoluta nei confronti dell'Unione Europea sulla gestione del lupo. Tra le mozioni che hanno fatto più discutere, interamente emendata grazie ad una lunga opera di mediazione, è approvata con 13 voti contrari, quella della presidente della dieta del Tirolo, Sonia Leder Rosman, sul tema strategico del traffico sull'asse del Brennero. Il documento è stato criticato dalle minoranze che l'hanno definito un compromesso a ribasso per la cancellazione dalla versione originaria di misure come il sistema slot per i tir e il pedaggio ambientale. I compromessi rischiano sempre di essere al ribasso, però questo è davvero eccessivo, perché la misura più importante per ridurre il traffico al Brennero è un aumento dei pedaggi e chi più inquina più paga, per evitare che i mezzi pesanti e inquinanti usino il Brennero come oggi accade, perché è più conveniente. Spiace perché nel gennaio del 2018 ero presidente allora io della provincia e abbiamo convenuto con i colleghi Compacer e Platter di scrivere chiaro e tondo che l'euregio era per l'introduzione del pedaggio ambientale, tant'è vero che avevamo poi sul lato italiano, assieme a Compacer, messo nel piano finanziario della 22 l'aumento dei pedaggi, proprio con questa finalità. Purtroppo ci sono delle fortissime pressioni, soprattutto in provincia di Trento, anche in provincia di Bolzano, di una parte di economia che naturalmente è preoccupata dall'aumento dei pedaggi, però bisogna mettere sul piatto della bilancia i valori. Il valore della salute è sicuramente più importante di quello del denaro. Un tema indubbiamente delicato che ha visto convergere l'Assemblea congiunta su una sintesi che ha saputo superare le diverse sensibilità. La chermesse di Riva del Garda si chiude dunque con un bilancio del tutto positivo, con i tre territori a rinsaldare la promessa di un impegno reciproco di collaborazione per immaginare un futuro fecondo su basi comuni. Il mio bilancio è sicuramente positivo. Anche in questo Dryer Landtag devo dire che anche su temi che erano un po' ostici, diciamola così, siamo riusciti alla fine a trovare un punto di incontro. è molto importante, soprattutto in questa Europa, dove naturalmente ci sono tante leggi, tante deliberazioni che chiaramente influiscono in modo fondamentale sugli Stati membri. Per cui, in questo caso, se le nostre tre regioni riescono a portare avanti una voce unica su determinati temi, che per noi sono molto importanti, e certamente questo è fondamentale.